Decisiva per la Roma che con una vittoria potrebbe rilanciarsi definitivamente, cruciale per il Napoli e soprattutto per il futuro di Roberto Donadoni. Settima giornata, è già tempo di verdetti. Amici sportivi benvenuti al derby del sole, così lo chiamavano i padri del giornalismo sportivo. In verticale norvegese, Vucinic, buona la sponda per Totti, pallone dentro per Perrotta, grande assist Perrotta, pallone lì Perrotta, De Santis ha salvato. Pizarro, largo per Totti, il colpo di tacco per Rize, buona la possibilità, Rize col sinistro. Allarga per Amsic, gran pallone per lui, attenzione, Amsic mette dentro, possibilità, si gira Lavezzi, vuole chiudere col destro e c'è la rete. Gol dell'1-0, Napoli in vantaggio, Lavezzi. Napoli in vantaggio con un tiro di Lavezzi, Lavezzi molto rapido si è girato, il pallone ha sorpreso Lobo, probabilmente è passato tra le gambe di un difensore della Roma, il portiere rumeno non è riuscito ad intervenire. Perrotta che allunga, allarga dalle parti di Vucinic, c'è Cannavaro su di lui, se ne va Vucinic molto bene, mette dentro Perrotta, deviazione, retta, il pallone della Roma al 37esimo. Il tocco di Perrotta, un'ulteriore deviazione ed è 1-1. Vucinic, Totti, De Santis. Pallone per Totti che carica il destro, un gol a trepitoso, quello di Francesco Totti, l'aggancio e poi il destro, 2-1 per la Roma. Qui il controllo, con il corpo, ha mandato a vuoto l'intervento del difensore, gli è bastato guardare la porta per scagliare verso la porta di De Santis, su un raso terra imprendibile, veramente. Totti! Testo, il volo splendido di Totti. Calcio di punizione per la Roma, mancano... Non manca più nulla alla fine del recupero, non c'è più tempo per battere il calcio di punizione, vince la Roma, 2-1 all'Avezzi, ha risposto la doppietta di Francesco Totti.